Sì, c'è tanto dispiacere perché ci dovevamo partire bene, purtroppo non è stato così, però bisogna prendere comunque tanto del positivo perché abbiamo tenuto molto bene una squadra come Sassuolo che anche essendo all'inizio del campionato ha fatto un certo tipo di preparazione quindi stavano leggermente meglio di noi e poi comunque è una squadra che lavorano tanto tempo insieme quindi sono molto affiatate e si vedevano molto bene. Quindi l'abbiamo tenuto molto bene, solamente che l'episodio in queste partite fa la differenza. Ci dà comunque tanto orgoglio che hanno questi tifosi quindi ci fa solo che piacere, bisogna comunque ringraziarli e cercare il massimo per potergli comunque dare delle soddisfazioni e non deluderli. Giocare contro l'Inter è comunque un grande stimolo, però dobbiamo comunque affrontare tutte a prescindere contro chi giochiamo. Sono tutte difficili, noi dobbiamo comunque cercare di avere una giusta mentalità, un giusto spirito di sacrificio e poi dopo a fine partita si tirano le somme.